Gli ultimi due anni, almeno per quanto mi riguarda, avevo raccimolato due sconfitte. Oggi abbiamo cambiato strada. Sono tre punti molto buoni, sia per come sono venuti, per la classifica e anche per affrontare al meglio queste prossime partite. Per la classifica, per come si è giocato e poi anche per, lo stava giustamente dicendo, per queste partite e soprattutto per il prossimo impegno, quello di Europa League contro il Copenaghen? Questo è chiaro che è l'impegno a cui teniamo di più in questo momento. Alla fine giocare di lunedì non è stato un vantaggio, però adesso abbiamo questi due giovedì con questa squadra che nel suo campionato è sicuramente la migliore, è un'ottima squadra e per superare il turno dovremmo fare bene, molto bene e credo anche che dovremmo giocarci la qualificazione alla Copenaghen. Che indicazioni ha avuto da questa partita contro il Frosinone? Sensazioni positive per quel che riguarda i suoi? No, noi quando siamo così soli con questo gruppo, con questa situazione, la squadra è competitiva. Abbiamo tantissime partite, questo è vero, dobbiamo cercare velocemente di allargare un po' la rosa della base dei giocatori determinanti, così come abbiamo fatto in passato e riuscire a farlo anche velocemente quest'anno perché gli impegni sono importanti subito. Pasalic ancora a segno, Atebor ancora a segno, poi c'è questa doppietta del Papu Gomez che propizia anche due gol dei suoi compagni con due assist. Sì, queste sono tutte notizie molto positive, è chiaro che io posso contare sul gruppo storico dell'anno scorso, sicuramente certezze, anche se poi vedi Atebor che sta crescendo in zona goal e questo per noi sarebbe un passo fondamentale. Vedo, comunque ho provato a inserire Dim City perché ne avremmo sicuramente bisogno. Lo stesso Pasalic e Zappata, per quanto siano due giocatori molto importanti, hanno bisogno di allinearsi un po' agli altri come ritmo, come intensità ma hanno tutte le qualità importanti per farlo. Poi il pubblico? Il pubblico è quello straordinario, sempre per numero, per passione, per incitamento alla nostra squadra. Non smetteremo mai di ringraziarle abbastanza.